Ciao a tutti e benvenuti nel sesto e ultimo episodio della terza stagione di Situazioni in Campo. Io sono Giuliano, oggi come potete vedere ci sono campi trebbiati, si parla di trebbiature e produzioni, ma prima sigla! Prima di partire ragazzi vi ricordo che in descrizione trovate il mio profilo Instagram, lì vi aggiorno con backstage di Situazioni in Campo, quindi piccole nozioni di come stanno andando i campi, ho partecipato a diversi eventi tra ottobre e novembre e ve li ho raccontati lì perché non ho portato nessun video su YouTube. Quindi se avete Instagram e vi può far piacere seguirmi, link in descrizione appunto, andate a visitare il profilo, troverete tanti tanti contenuti anche lì. Veniamo a noi, trebbiature e produzioni, vi lascio in alto a destra la playlist di Situazioni in Campo, magari qualcuno arriva su Situazioni in Campo per la prima volta e non capisce di cosa sto parlando o comunque vuole vedere il progresso delle coltivazioni lungo tutti questi mesi appena passati. Oggi è l'episodio finale, delle trebbiature di colza e orzo abbiamo già parlato in qualche episodio fa, oggi ci soffermeremo su quello che è soia, soia di secondo raccolto e mais, ovvio che vi farò un riassunto anche di quello che è colza e orzo. Mi raccomando se volete partecipate qua sotto nei commenti e scrivete anche le vostre produzioni di grano, orzo, colza, soia e mais. Infatti potete scrivere in maniera molto semplice, in maniera ordinata, possibilmente con, intanto di cosa state parlando, quindi colza, orzo, il tipo di coltivazione, la varietà, la regione, non serve la città, la regione da cui venite e la produzione in quintali per ettaro secca, si sta parlando di 13-14% di umidità su quasi tutte le coltivazioni e al netto di impurità che di solito si attestano al 2%. Quindi non varate scrivendo la produzione di soia al 20% di umidità, perché la soia va venduta al 13%. Infatti in questo episodio vi comunicherò tutte le mie produzioni secche e al netto di impurità del circa il 2%. Piccolo riassunto su colza e orzo. Colza, 45 quintali per ettaro, veramente una produzione molto soddisfacente, trabbiata purtroppo molto secca, quindi ho perso qualche percentuale di umidità, va consegnata al 9%, io l'ho trabbiata al 6%. Non mi ha causato grandissimi problemi, però comunque è un po' di produzione persa. In ogni caso sono molto molto soddisfatto di questi 45 quintali per ettaro, oltretutto super pulita, veramente un gran bel prodotto e forse il colza è stato quello più soddisfacente e si può dire sia la colza che il colza. In gergo tecnico si utilizza il colza, però potete benissimo dire la colza, io sono abituato a dire il colza, ma comunque si può dire in entrambi le forme. Insomma, questo colza molto molto soddisfacente. Andiamo poi sull'orzo, è stata una produzione nella media, medio alta, si può fare di meglio, altre persone fanno di meglio e ho fatto di meglio in vita mia. 75 quintali per ettaro di altissima qualità perché stiamo parlando di un 70 di peso specifico. Anche questo orzo trebbiato un po' troppo secco va consegnato al 13, l'ho trebbiato all'11%, perdendo circa 2 punti percentuali di peso. Che dire, quindi la stagione di trebbiature era partita veramente in maniera ottima. Arriviamo alla soia, che come sapete ha avuto, quella di secondo ha avuto problemi in semina, quella di primo ha avuto problemi con le lepri, quella di secondo anch'essa ha avuto problemi con le lepri, quindi diciamo è stata flagellata da un bel po' di problemi. Era iniziato pure un attacco di ragno rossa, è stato controllato in lotta biologica, insomma non è stata fortunatissima la soia, almeno la mia soia quest'anno. Nonostante questo, primo raccolto al 13% di umidità, 41 quintali per ettaro, al netto anche delle impurità, quindi secca e al netto delle impurità 41 quintali per ettaro. Ho fatto di più l'anno scorso, però considerati tutti i problemi avuti, sono abbastanza soddisfatto. Vero, è stato irrigato un po' di più dell'anno scorso, però ragazzi, col prezzo di vendita che ha nel momento in cui sto registrando il video, sono contento. Chiudiamo poi il discorso soia con la soia di secondo raccolto. Per chi non sapesse cosa vuol dire secondo raccolto, è una coltivazione che si fa nello stesso anno in cui è stata trebbiata la coltivazione precedente. Quindi in questo caso, nel mio caso, il primo raccolto è stato il colza, una volta trebbiato il colza ho seminato subito la soia e trebbiata nello stesso anno in cui è stato trebbiato il colza, quindi si chiama secondo raccolto. Secondo raccolto di soia, trebbiato per fortuna tra una pioggia e l'altra il 28 di ottobre, produzione 31 quintali per ettaro. 10 in meno che il primo raccolto. Anche qua niente male, considerando i problemi di semina, di immersione e le lepri, eccetera. Anche qua, col prezzo di vendita attuale, sono abbastanza soddisfatto. Non c'è assolutamente da lamentarsi. Si poteva fare meglio, sicuramente. È stato un anno difficile come temperature estive, vero. Però ragazzi, sono soddisfatto. L'importante, insomma, è anche questo. Lo so ragazzi che sono metà illuminato e metà no. Comunque mi si vede comunque. Mi servirebbe un bel pannello riflettente per catturare la luce solare e spararmela sul viso. Però ragazzi, queste sono nozioni tecniche di video. Si fa il possibile. Se mi giro da quella parte, verrei accecato e farei tutto il video con gli occhi chiusi. Meglio di no. E poi arriviamo al tanto chiacchierato mais. Bello, non bello, alto, che varietà. A me piace quella varietà là. Io preferisco questa, eccetera, eccetera. Piralide, che ha fatto un bel danno. Insomma, oltretutto, vi ricordo che per le varietà, per sapere le varietà di queste coltivazioni che ho detto, provate la tabella che vi metto sempre in video. Ma potete andare a vedere anche gli episodi precedenti. Per esempio, nel caso delle mais, sto parlando del DK64-92. Trebbiato il 25 di settembre. E produzione in quintali per ettaro al netto di impurità e secco. 13,5% in umidità. 175 quintali per ettaro. Niente male. Non è un record, però c'è da essere sicuramente contenti. E scrivetemi anche le vostre produzioni, così ci confrontiamo un po' sull'annata. Quindi da capire se è un dato basso per questo tipo di anno o alto. Confrontiamoci, ragazzi. E per favore, scrivete le produzioni in maniera seria e non barate. Tanto non vi prende in giro nessuno. Cioè, non è che vengo lì a scrivervi Ah, 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 hai fatto solo 150 quintali per ettaro, ragazzi. Facciamo un po' i seri e i professionisti del settore. Io vi ho sempre comunicato anche le mie produzioni scadenti gli anni precedenti. Quindi, ragazzi, facciamo i seri. Insomma, che dire, 175 quintali per ettaro. Ottimo. Sono contento. Come vi dicevo e come vi ho detto anche nel video della trebbiatura del mais, che vi lascio qua in alto a destra, c'è stato un po' di problema di piralide. È stata, penso in tutta Italia quest'anno, è stata molto molto prepotente, molto presente. Un gran problema, penso, per tutti. Avendo fatto un trattamento in lotta biologica, avrei dovuto distribuire qualche esemplare in più per controllare meglio la terza ondata, diciamo, di piralide. Qual è stato il danno principale? Molte gambe di mais spezzate, che non entrano bene all'interno dello spannocchiatore, quindi la pannocchia casca per terra e ci sono proprio perdite direttamente in barra, non della trebbia. Direttamente lì la pannocchia casca per terra e la trebbia non riesce a raccoglierla. Però 175 quintali per ettaro, secchi, al netto di impurità, niente da dire. Sono contento, però si punta anche a far meglio. In passato, si parla di più di vent'anni fa, mio padre ha fatto produzioni leggermente migliori. In zona si arriva anche a 200 quintali per ettaro, secchi. Quindi, insomma, magari, ragazzi, nella prossima stagione di Situazione in Campo si prova a fare anche i 200 quintali per ettaro. A parte gli scherzi, si punta sempre a far meglio, però 175 quintali per ettaro, ditemi anche la vostra, sono soddisfatto. Voi che dite? È una buona produzione? Avete fatto di più, di meno? Siete abituati a numeri diversi? Fatemelo sapere. E queste, insomma, sono le produzioni. L'unica cosa che non vi ho detto è che la soglia di primo raccolto è stata attrebiata il primo di ottobre dopo il mais. Per il resto, penso di avervi detto tutto e aspetto le vostre produzioni. Situazione in Campo, stagione 4 ci sarà, si farà. Sono rimasto soddisfatto anche dei risultati ottenuti in termini di visualizzazioni, commenti, apprezzamenti di questa terza stagione. Si farà anche la quarta, ve lo comunico già. Ci saranno prove, test, ancora più sensori, sensori particolari, prodotti nuovi. Insomma, non vi anticipo niente. Vedrete, vedrete. Stagione 4 che vorrei iniziare prima degli anni scorsi. Il solito Situazione in Campo parte sempre a marzo, aprile dell'anno successivo alla stagione precedente. Vorrei partire già a gennaio del 2022. Non prometto niente, ma cercherò di farlo. Anche perché vi do proprio un'anticipazione piccolissima e da nulla. Ho seminato ancora colza e è molto bella lì, appunto, che vegeta e si sta preparando alla fase di vernalizzazione in cui perderà le foglie, appunto le farà marcire e per poi ripartire in primavera. Quindi, insomma, è partita molto bene, vero? L'ho seminata il 6 di settembre, ho dovuto irrigarla per farla nascere, quindi già una spesa in più rispetto all'anno scorso. Però, insomma, l'importante è seminare bene. Si dice che chi semina bene è già a metà dell'opera e bisogna farlo anche bene, non bisogna seminare e poi lasciarli. Se c'è caldo, come c'era il terreno secco, bisogna assolutamente irrigare, ovviamente, chi ne ha la possibilità. E lì staremo a vedere l'anno prossimo che produzioni ci saranno e come andrà anche in termini di insetti, infestazione, siccità, eccetera. Invece, per quanto riguarda il cereale all'interno della rotazione, quest'anno volevo cambiare da orzo a grano duro, infatti la scelta è stata fatta, ho pronto il seme di grano duro per seminare, però adesso siamo alla fine di novembre e non riesco ancora a seminare. Io mi do tempo fino alla prima settimana di gennaio per cercare di seminare, tanto col grano duro non è un grosso problema seminare tardi, anche a me sarebbe piaciuto seminare prima, ma a ottobre c'era troppo secco, a novembre è piovuto tantissimo e quindi non ho mai trovato una finestra disponibile. Adesso i terreni, per esempio, sono fango, non si riesce assolutamente a entrare. Ragazzi, cercherò di fare il possibile. Ho corso dopo il mais perché il grano duro va seminato, almeno nella mia rotazione va seminato dopo il mais. Ho corso per macinare gli stocchi, ho chiamato il terzista con la dischiera per tagliare tutti i residui. Sono intervenuto con il coltivatore molto rapidamente, però ragazzi, una volta ho preparato il terreno, era secchissimo. Ho detto, ok, non semino qui, aspetto un po' di pioggia, però forse è stato un errore, forse no. Staremo a vedere. Vi aggiorno e vi aggiornerò con la stagione 4 di Situazione in Campo. Io ringrazio tutti quelli che hanno guardato anche solo un episodio di questa stagione 3 di Situazione in Campo. Ringrazio tutti i partner tecnici come X-Farma. E ragazzi, noi ci vediamo in una nuova stagione. Fatemi sapere le vostre produzioni. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Seguitemi su Instagram, come vedete all'inizio del video. Noi ci vediamo nella prossima stagione. Noi ci vediamo.